Todi celebra l'arte contemporanea con una grande mostra dedicata a Marc di Suvero, uno dei più importanti scultori viventi legati all'espressionismo astratto. Fino al 27 ottobre il Borgo Umbro ospita Space Time, un'esposizione diffusa curata da Marco Tonelli, che rappresenta la prima personale italiana dell'artista dal 1995. L'evento, parte della quarta edizione del Festival delle Arti, si apre con Neruda's Gate, un'imponente scultura alta 8 metri esposta in Piazza del Popolo, che al termine della mostra troverà dimora permanente al Parco del Ponte Bailey. L'opera, dedicata al poeta cileno Pablo Neruda, simboleggia il dialogo tra arte e società, un tema centrale nella carriera di Suvero, noto per il suo impegno politico e sociale. È una mostra che si gioca su vari registri, una grande scultura monumentale, dieci dipinti e tre sculture agibili, componibili da chiunque. Quindi è una mostra che apparentemente gioca sul concetto di gioco, partecipazione, interazione, di opera d'arte democratica, in cui adulti e bambini possono trovare la loro via di creatività. Ma allo stesso tempo vuole ribadire un concetto fondamentale per tutta la carriera di Mark di Suvero, oggi 91enne, che l'arte è una forma di libertà. All'interno di Palazzo del Popolo i visitatori possono ammirare dipinti e piccole sculture realizzate dall'artista fra il 2014 e il 2022. Tra le opere esposte spiccano i puzzle pieces, sculture in titanio e alluminio, che possono essere assemblate in infinite combinazioni, offrendo al pubblico un'esperienza interattiva. La mostra, peraltro, rappresenta un tributo alla storica collaborazione fra Mark di Suvero e Beverly Pepper, la scultrice americana che scelse Todi come sua seconda casa. La nostra fondazione è davvero onorata che l'artista abbia accettato il nostro invito a disporre proprio qui a Todi la sua grande opera e le sue grandi opere. La nostra fondazione rinnova quindi un impegno importante nella promozione dell'arte e della cultura, ma anche nel coltivare quella vocazione sull'arte contemporanea che Todi porta avanti da quasi mezzo secolo. Space Time conferma la vocazione di Todi a diventare capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, proseguendo il cammino intrapreso da Beverly Pepper e rafforzando il legame tra passato e presente nel contesto di un borgo medievale aperto alle espressioni artistiche più innovative. Grazie a tutti.